Allora questa è l'ultima presentazione per oggi e riguarda un problema col quale noi ci siamo confrontati spesso nel corso degli anni, che è un dilemma diagnostico e anche dal punto di vista gestionale, cioè la concomitanza di una placenta molare, intendiamo con questo una placenta cistica con un feto vivo, perché è una condizione che può sottendere a diversi tipi di problemi. In generale fare una diagnosi ecografica di una mola vescicolare completa nella sua forma più caratteristica è semplice perché uno si trova di fronte a un utero che è pieno di un'area ecogena con numerosi vacuoli. Non è sempre così facile, quello che vedete lì è un caso che noi pubblicammo molti anni o sono, non c'era nient'altro in letteratura a quel tempo, era una gravidanza gemellare, ve l'ha fatta vedere Anna prima, e uno dei due gemelli era, caratteristicamente aveva l'aspetto di un blighted ovum, di una gravidanza in embrione, che poi col tempo questa cosa si è trasformata in una vera e propria mola. E dopo ci sono state alcune altre segnalazioni analoghe che dicono che anche le mole che poi si presentano nel modo più aggressivo, multivacuolari, all'inizio possono sembrare delle gravidanze che sono fallite, possono sembrare delle gravidanze anembrioniche. Quindi una fase percoce non è così semplice, però nella fase conclamata lo è abbastanza. Il problema grosso comunque è quando uno si trova di fronte a una situazione come questa, cioè a una placenta che è multicistica, con tante cisti diverse, quante dovrebbero essercene? la dottoressa della gatta aveva detto prima che trovare delle cisti della placenta è una cosa che è abbastanza frequente, uno comincia a preoccuparsi quando ne vede più di tre. Molte cisti e un feto vivo. Allora questa è un'entità che può correlare con una di queste tre condizioni patologiche. Una mola parziale, se ne è già parlato, una gravidanza gemellare che per fortuna è fatta da un feto normale e da una mola completa. Oppure può anche essere una strana, curiosa patologia della placenta che è stata descritta negli ultimi anni che va sotto il nome di displasia mesenchimale o pseudomola parziale. Ognuna di queste cose ha delle conseguenze piuttosto differenti e quindi le esamineremo una per una. Probabilmente il modello più semplice è quello della mola parziale. Nella maggior parte dei casi la mola parziale non è un problema di interpretazione ecografica perché la grande maggioranza delle mole parziali, come è stato detto prima, va incontro a fallimento, a aborto nel primo trimestre di gravidanza. Quindi questo è un problema fondamentalmente di tipo amministrativo, cioè essere sicuri che quando uno ha fatto un raschiamento e mandato via l'esame istologico, poi qualcuno legga quell'esame istologico che arriva la settimana dopo senza mandarlo via a archiviarlo subito con la cartella, ma lo legga e se effettivamente è una mola parziale ne traga le dovute conseguenze. Questo non è un problema clinico, è un problema fondamentalmente di tipo amministrativo. È stato stimato che grossomodo il 90%, 9 su 10 delle mole parziali hanno questo destino, cioè vengono diagnosticate come aborti interni o aborti incompleti e poi soltanto dopo si scopre che effettivamente è una delle mole parziali. Se noi sappiamo che effettivamente quella era una mola parziale, allora c'è un rischio, come avete visto prima, di una malattia trofoglastica gestazionale persistente e quindi è raccomandato un follow up. Il rischio non è molto alto, nelle diverse casistiche è qualcosa che oscilla tra l'1 e il 5%. Mediamente avete visto prima, vi ha parlato di un 4-10% dei casi di malattia trofoglastica gestionale persistente, anche se non sempre questo evolve verso le forme più severe, verso il corio carcinoma, c'è da dire questo. Ha una potenzialità maligna, ma è molto più bassa della mola vesicolare completa. In un 10% dei casi invece la gravidanza procede nel secondo trimestre e può anche arrivare fino alla fine della gravidanza. Di solito il quadro però è molto caratteristico, perché quello che si vede in questi casi è, siccome come è stato detto prima, il feto è triploide, è gravemente malformato, in modi diversi, ma comunque con delle gravi malformazioni, e la placenta tende a essere grande e con delle grosse cisti. La diagnosi, se uno ha il dubbio, è facile, perché questi sono dei feti che hanno una triploidea. Più precisamente un tipo particolare di triploidea, cioè quella cosiddetta diandrica, cioè hanno tre set di cromosomi da 23, due vengono dal padre. Sappiamo ormai da diversi anni, è stato il modello della mola che ci ha permesso di scoprirlo, che in realtà c'è un imprinting dei cromosomi, i cromosomi non sono come pensavamo una volta tanti mattoncini che uno vale l'altro, c'è un imprinting dei cromosomi per cui i cromosomi della madre hanno una funzione, i cromosomi del padre hanno una diversa funzione. I cromosomi della madre servono soprattutto per fare il bambino, i cromosomi del padre servono soprattutto per fare la placenta. Quindi se hai troppi cromosomi del padre, hai una placenta che diventa aggressiva, grande e aggressiva. E l'aspetto tipico nel secondo trimestre è una cosa come questa. La prevalenza, la predominanza dei cisti è variabile, la placenta tende a essere sempre piuttosto spessa, il feto spesso è piuttosto piccolo e comunque è di solito malformato, qui vedete c'è una malformazione della fossa cranica posteriore, diversi tipi di problemi. Noi nel tempo ne abbiamo visti diversi di questi casi qua. Questo è un feto a 13 settimane che ha una placenta molto grande, molto vacuolare, vedete. E questo invece è un feto che è arrivato a 16 settimane e c'è sempre qualche cosa di alterato. Questo ha un oligoidramnios, ha una placenta che è molto molto spessa con delle grosse cisti. Vedete che l'aspetto della placenta però è molto variabile, cioè il numero di cisti, le dimensioni delle cisti sono effettivamente estremamente variabili. In comune c'è il fatto che ci sono sempre molti cisti e di solito la placenta è piuttosto grande e il feto è malformato. Però questo non è un grosso problema diagnostico perché alla peggio un cariotipo si ottiene sempre in questi casi ed è sempre patologico. Quindi si risolve abbastanza facilmente. Questo è per ricordarvi che ci sono due tipi di triploidie. La triploidia diandrica è la mola parziale, quindi c'è un feto malformato con una placenta molare, che è una placenta che ha un potenziale, anche se basso, di malignità, ma c'è anche una triploidia di segno opposto, cioè dove la predominanza dei cromosomi, cioè il set di cromosomi in più, è della madre e non è del padre. Qui, siccome l'imprinting è diverso, il problema è esattamente l'opposto. Questi sono feti che hanno delle placente piccolissime e sono feti che hanno una gravissima restrizione di crescita. Se vedete una grave restrizione di crescita a un'epoca molto precoce, la prima cosa che viene da pensare è la triploidia. Quando sono state pubblicate delle casistiche, alcuni anni sono, di restrizione di crescita nel secondo trimestre, la prevalenza di triploidia nei feti che sono piccoli nel secondo trimestre è spropositata, quindi si può praticamente fare la diagnosi. E questa triploidia naturalmente ha una placenta molto piccola e quindi non ha nessun potenziale di evoluzione maligna naturalmente. Immagino che se anche voi avrete un anatomopatologo come quello che abbiamo avuto noi per diverso tempo, che negli aborti spontanei vi scrive la triploidia, lui non pensa alla triploidia diginica, lui pensa alla triploidia di andrica, cioè alla mola parziale, perché non credo che ci siano dei criteri specifici per definire questa cosa. Ne abbiamo visti diversi casi. La cosa che ti colpisce, che praticamente ti fa fare la diagnosi immediatamente, è che il feto è piccolo, ma soprattutto c'è questa enorme, enorme, vedete, sproporzione tra le dimensioni della testa, che è normale, e le dimensioni del tronco, che sono estremamente esigue. Ne abbiamo visti diversi casi, anche nel primo trimestre, hanno questo aspetto molto caratteristico, se siete abituati a fare la traduzione zanucale, li riconoscete subito, la testa è molto grande, il corpo è molto piccolo, l'addome è molto sottile, la testa è quasi sempre strana, tipica, c'è qualcosa di stravagante dentro, ci sono spesso delle malformazioni, questo è un feto che ha una comunicazione, ha la genesia del dotto venoso, quindi la vena umbilicale va direttamente dentro, e soprattutto hanno questo elemento caratteristico, questi sono tre casi diversi che abbiamo visto, hanno tutti quanti un dotto venoso gravemente patologico. Se vedete un ritardo di crescita asimmetrico nel primo trimestre, nel secondo trimestre, con un dotto venoso patologico, la probabilità che sia una triploidia è estremamente alta, ed è una condizione che può arrivare a termine di gravidanza, può portare alla nascita di un feto vivo, ma però questi effettivamente sono sempre morti nei primissimi giorni di vita, non sembra che ci sia nessuna possibilità di sopravvivenza oltre i primi giorni di vita, a differenza di altre malformazioni che vengono comunemente considerate letali, come la teresomia 18 e la teresomia 13, che invece qualche volta possono essere anche compatibili con una lunga sopravvivenza. Abbiamo avuto un caso medico legale recentemente di un bambino nato dopo una mancata diagnosi per Natale e la teresomia 18, di nove anni, e abbiamo scoperto che in Italia vivono 40 individui con la teresomia 18 e il più vecchio ha 35 anni, quindi non è necessariamente una cosa letale, come diciamo che morono sempre nei primi, ma la triploidia apparentemente sì.